Musica Regionali, De Luca nuovo governatore, di Brizzi su scarsa affluenza persa un'opportunità. Elezioni comunali, Sassano raggiunge il quorum, Tommaso Pellegrino riconfermato sindaco. Auletta, la minoranza attacca il sindaco sull'aumento della Tarsu. San Pietro Altanagro, il 5 giugno l'appuntamento con San Pietro spegne i pregiudizi. Calcio, playoff ok pollese, fuori lo sporting sala Consilina. Buonasera e ben ritrovati alle informazioni del nostro Tg. Iniziamo con la cronaca. Poca gente a votare. Il Vallo di Diano, eccezione fatta per qualche comune, non raggiunge quasi ovunque la metà degli aventi diritto al voto. Al di sotto della media provinciale e regionale. Le elezioni regionali di ieri hanno indicato Vincenzo De Luca come nuovo presidente. Ma come si sono comportati gli elettori del Vallo di Diano? Ancora una volta il territorio ha sprecato l'occasione di andare in massa al voto ed eleggere uno o più rappresentanti territoriali. Ieri sera alle 23 i dati di affluenza alle urne per l'elezione del presidente della regione Campania e dei consiglieri regionali non certo erano confortanti. A Pertosa, Polla, Salvitelle, Sant'Arsenio e Sassano riescono a portare alle urne più della metà degli aventi diritto al voto, anche se nei casi di Pertosa e Sassano hanno influito anche la contemporanea elezione del nuovo sindaco. Dati davvero preoccupanti per un territorio che con queste votazioni ha evidenziato un'ulteriore disaffezione alla politica da parte della gente. In questo contesto Padula con il 28,83% dei votanti è il comune che ha visto meno gente recarsi alle urne, nonostante la presenza del sindaco Paolo Imparato che è anche consigliere provinciale. Adena Lucana non può certo sorridere con il 31,64% così come San Rufo e Teggiano con rispettivamente il 34 e il 35,49%. La media regionale è stata del 51,9% mentre quella della provincia di Salerno che si è distinta addirittura del 55,52%. Gli unici comuni ad avvicinarsi o a superare la media provinciale sono stati Pertosa, 72%, Salvitelle, 55%, Sant'Arsenio, 52% e Sassano, 58%. In termini di preferenza dei candidati governatori c'è poca differenza tra i due principali competitor, De Luca e Caldoro, anche per la forte presenza di candidati appartenenti alle diverse coalizioni presenti sul territorio. Per quanto riguarda i comuni, De Luca vince quasi ovunque, con le poche ma importanti eccezioni di Teggiano, Polla e Sassano che hanno dato una grande fetta di voti al presidente uscente, anche per la presenza, lo ribadiamo, di candidati locali nelle liste collegate a Stefano Caldoro. Ma anche Montesano sulla Marcellana e Monte San Giacomo sono stati territori di conquista dell'ex presidente. Il dato che però deve far riflettere la politica locale è la bassa affluenza alle urne, un fenomeno davvero molto diffuso nel valo di Diano che è destinato anche il futuro, in assenza di una politica seria e unitaria, ad aumentare vertiginosamente. Due punti percentuali e circa 60.000 voti hanno deciso l'esito dell'elezione del nuovo governatore della Campania. Vincenzo De Luca è il nuovo governatore della regione Campania e quanto è emerso dalle urne nella tornata elettorale è andata in scena ieri in tutta la regione. De Luca ha ottenuto oltre il 40% delle preferenze, mentre il governatore uscente, Stefano Caldoro, non è andato oltre il 38%. Un risultato importante per l'ex sindaco di Salerno e gli elettori hanno riposto in lui la fiducia, nonostante venerdì la commissione antimafia l'avesse inserito nella lista dei cosiddetti impresentabili. Analizzando provincia per provincia è stata una lotta fino all'ultimo. Nella provincia di Avellino De Luca ha superato il 50% dei consensi, mentre Caldoro si è arrestato al 33%. Nel Beneventano invece il bilancio è stato in totale parità. A Salerno e provincia invece la sua raccaforte ha risposto garantendogli il 53% delle preferenze a fronte del 31% per Stefano Caldoro. A Caserta e Napoli invece il presidente uscente, rappresentante del centrodestra, ha piazzato il colpo battendo l'ex sindaco rispettivamente con il 41% e il 40,5% a fronte del 38% e del 35%. A far pendere l'ago della bilancia dunque è stata la provincia di Salerno e di Avellino, ma a guardare bene le persone che si sono recate a votare emerge un dato allarmante. Se è una regione che vanta circa 5 milioni di elettori e alle urne se ne presentano poco più della metà, allora vuol dire che qualcosa non va e forse questo aspetto non deve essere tenuto in secondo piano. E al termine dello scrutinio Valentino Di Brizzi, candidato al Consiglio regionale, commenta l'esito del voto dichiarandosi soddisfatto per il risultato raggiunto che pur candidato per la prima volta alle elezioni regionali ha ottenuto un'ottima affermazione in termini di consensi sia nel Vallo di Viano che fuori, ma si dice comunque amareggiato per la scarsa affluenza alle urne. Il Vallo di Viano ha perso un'opportunità importante, dice. Un commento anche sull'elezione di De Luca, su cui pende la spalla di Damocle della legge Severino. Ascoltiamo Valentino Di Brizzi. Ma al di là della soddisfazione personale, siamo in tutta la provincia di Salerno per aver raggiunto un risultato, devo dire, di chi deve essere preso in grande considerazione. Sono rimasto poco poco deluso da quello che è stato invece il dato del Vallo di Viano. Non perché non mi ha votato, perché il Vallo di Viano in termini percentuali mi ha dato grandi consensi. Chiaramente quello che si è registrato è stata l'assenza dei valvianissi al voto. Un'assenzione molto alta, un'assenzione che ha contribuito ad abbassare il numero delle preferenze al sottoscritto. Chiaramente questa è una grande responsabilità per gli elettori del Vallo di Viano, perché avrebbero potuto portare a casa un grande risultato, quello di un consigliere regionale. E chiaramente in virtù anche della vincita di De Luca, che ripeto, un presidente che non è presidente, che domani mattina noi non avremo la presidenza della regione Campania, quindi con conseguenti disagi, non solo disagi, ma anche problemi di carattere politico ed economico, chiaramente dobbiamo registrare che non ha capito l'importanza di avere un rappresentante in teno al consiglio regionale. Peccato, perché i valvianissi sono stati distratti, hanno votato veramente molto poco, veramente molto poco, avrebbero potuto fare di più. E poi chiaramente non ci possiamo lamentare, se poi negli anni chiaramente noi perdiamo una volta il Tribunale, poi ci lamentiamo della sanità, poi ci lamentiamo della possibilità dell'aggiusura del carcere. Se poi noi non abbiamo rappresentanze politiche serie che si possano interessare di queste problematiche, non ci possiamo fare niente. Io ci ho provato, io e il gruppo di Forza Italia ci abbiamo provato, speriamo di aver fatto bene, ma la cosa bella è che non è che ci ha bocciato il voto, perché il voto è arrivato ed è stato anche ampio, ripeto, in termini percentuali. La cosa veramente è che i valvianessi forse non hanno capito l'importanza del voto, perché non sono andati a votare. Ma senza dubbio, questa è la cosa che poi mi stupisce di più dell'elettorato campano, è stato scelto in quanto Presidente della Regione Campania un Presidente condannato, che non potrà svolgere questo ruolo. Io mi domando e dico, ma come si può votare? Cioè voglio dire, come si può dare in mano a una persona che è una condanna, che può essere legittima o illegittima, ma la condanna in cegno, che non gli consente di fare il Presidente della Regione Campania e i campani lo hanno votato. Quindi francamente non so cosa fare, però il dato è questo, non possiamo fare altro che registrarlo, speriamo che le cose vanno bene, anche perché sarà commissariata, penso domani mattina, non so che cosa accadrà in questi giorni. Va bene così, i campani hanno voluto fare in questo modo, i valvi amici hanno voluto non contribuire alla vingita etica al d'oro e neanche all'elezione di un rappresentante locale. E quindi va bene, dovremmo poi non lamentarci di quanto accadrà. Il risultato di queste comunali a Sassano risulta essere decisamente soddisfacente per l'unica lista in campo che vedeva candidato sindaco l'uscente Tommaso Pellegrino. Oltre al raggiungimento del quorum, che già nel pomeriggio di ieri aveva lasciato spazio e soddisfazione per la riconferma e per lo scongiurato pericolo del commissariamento. Oggi, a seguito dello scrutinio, gli elettori di Sassano hanno ampiamente manifestato il consenso. Oltre che alla lista, in generale, con ben 2635 preferenze agli amministratori uscenti, con primi eletti i già assessori Antonio D'Amato e Mario Trotta, rispettivamente 322 e 316 voti. Seguono poi Gianfranco Russo con 307 voti, Luigi Petrizzo, detto Gegé, che ha ottenuto 294 preferenze, Gaetano Spano con 260 voti, Maria Russo 239, Capuano Antonio 222, Vito Cavallone 208 voti, 198 le preferenze per Michele De Luca, Domenico Fornino 110 voti, Giovanni Giordano, votato da 91 cittadini, ed infine Esposito Gaetana, detta Tania, che ha conseguito 68 preferenze. Soddisfazione è stata espressa dai nuovi eletti, ed in particolare da Antonio D'Amato e Mario Trotta, rispettivamente primo e secondo eletto. Ascoltiamoli. Da parte mia, da parte nostra, naturalmente, c'è tanta soddisfazione. Credo che effettivamente abbia premiato un po' la coerenza politica, e andiamo a leggere anche un risultato sull'avere bene fatto, effettivamente, anche in passato. Quindi tutte, magari, quelle calunnie che ci sono state, tutte quelle accuse sull'avere fatto poco in passato come amministrazione, oggi devo leggere con mia felicità che erano del tutto infondate. Tutta l'amministrazione Pellegrino, dell'aggiunto scende, eravamo candidati io e l'assessore Trotta, ci siamo riconfermati come il primo e il secondo eletto, ma naturalmente è stato anche un bel risultato un po' di tutti, un po' di tutta quanta l'amministrazione. Oggi siamo appunto pronti, un gruppo coeso, un gruppo unitario, appunto, da amministrare e già da domani mattina ci metteremo al lavoro sempre e comunque nell'interesse del nostro paese. Sicuramente i sassanesi hanno votato, hanno risposto a quello che era un loro diritto, nonostante ci fossero tante voci di segno opposto, nonostante ci fosse anche un comitato no voto. Però abbiamo raggiunto abbandonamenti del quorum, segno questo che l'amministrazione Pellegrino già ovviamente nella recente amministrazione ha lavorato bene e quindi ovviamente c'è stata una ampia riconferma. Poi quanto alla mia posizione personale è ovvio che sono ampiamente soddisfatto del risultato ottenuto. Adesso parliamo ovviamente di consiglieri, ancora non di cariche perché ovviamente quelle si stabiliranno in un altro momento. Certo, quello che posso garantire è che il mio continuo e costante impegno come ho già fatto per il passato e quindi lavorare sempre per i sassanesi e per sassano. Un'altra soddisfazione può essere considerata il fatto che i primi eletti sono tutti giovani? Certo, sicuramente. Questo veramente è una soddisfazione e anche una riconferma della passata amministrazione. Perché ovvio anche l'altra amministrazione era composta da persone abbastanza giovani. Ma poi in realtà io dico che il giovane anagraficamente è solo una questione relativa perché poi l'importante è fare e l'importante è la volontà e l'impegno che si mette nell'amministrare e nel fare le cose per i sassanesi e per sassano ovviamente. Ascoltiamo ora l'intervista al riconfermato sindaco di sassano Tommaso Pellegrino in attesa dello scrutinio per l'acquisizione dei voti. Devo dire una grande prova di maturità di amore per il proprio paese da parte della gente della nostra gente di sassano. Io sono contento ma ero convinto che l'orgoglio dei cittadini di sassano non ci avrebbe assolutamente deluso e quindi è stata veramente una bella prova perché una partecipazione così ampia di gran lunga superiore al cuore per raggiungere per far sì che le elezioni potessero essere varie devo dire veramente è stato molto bello. D'altra parte noi abbiamo combattuto adesso lo posso dire non l'ho detto prima durante la campagna elettorale perché noi ci siamo voluti confrontare con la legge attuale una legge profondamente giusta perché voglio ricordare che nella legge per il conseguimento del quorum c'erano anche inseriti gli iscritti nel registro AIRA cioè i residenti all'estero c'erano circa 1200 persone che non potevano votare perché vivevano in paesi all'estero fuori dall'Italia e questa è una legge profondamente ingiusta che va assolutamente cambiata che lavoreremo per far sì che venga cambiata e noi abbiamo tenuto anche un profilo di correttezza perché potevamo fare anche una lista cosiddetta civetta non lo abbiamo fatto noi ci abbiamo messo la faccia ci siamo presentati ci siamo sottoposti al giudizio dell'agenda anche perché noi abbiamo amministrato e chi ha amministrato deve anche sottoporsi al giudizio rispetto alle cose che ha fatto e abbiamo fatto esattamente questo alla fine abbiamo chiesto appunto e ci siamo impegnati proprio in modo rispettando soprattutto la nostra gente e le nostre famiglie quindi abbiamo voluto un confronto democratico appunto abbiamo soprattutto tenuto in grande considerazione quel principio sacrosanto quel valore sacrosanto che è quello della democrazia ed è stata una bella una bella risposta devo dire veramente un grande grazie ai tanti giovani che hanno collaborato che sono stati vicini un grande grazie alle tante famiglie che hanno voluto votare e con orgoglio e con entusiasmo si sono legati al voto devo dire veramente una bella giornata una bella giornata di democrazia per Spassano per il palo di Diano e una bella giornata di democrazia e per la politica soprattutto perché poi quando c'è una politica che unisce anche perché i cittadini di Spassano hanno premiato un progetto unitario che andasse nella direzione della pace e non delle divisioni della concordia non dei litigi in un momento in cui c'è una politica che siamo abituati a vedere una politica che litiga una politica che si contrappone beh una volta da Spassano abbiamo dato invece un segnale opposto c'è una politica che usce e questo è stato premiato dalla nostra gente Apertosa si conferma con successo a sindaco Michele Caggiano che raggiunge un'ottima riaffermazione come primo cittadino così come è risultata vincente la composizione della sua lista importante novità in consiglio tra i banchi della maggioranza con l'ottima affermazione di uno straniero Samsoi Nicolai con cui già l'amministrazione comunale collaborava nel dettaglio Caggiano si è riconfermato sindaco con 357 voti contro i 155 di Vito Panzella eletti alla carica di consigliere Barba con 78 voti Caffaro 75 Lupo 36 Manisera 30 Laporta 32 Samsoi 28 e Caggiano Vincenzo con 22 voti tra i banchi dell'opposizione oltre al sindaco Panzella anche Soldovieri con 36 preferenze e Gagliardi 28 Ascoltiamo nell'intervista il neorieletto sindaco Michele Caggiano Evidentemente abbiamo fatto bene stiamo facendo bene una minoranza di ragazzi di giovani per cui spero che riusciremo con loro a collaborare a costruire le basi per diciamo un presente ma anche un futuro migliore era importante questa conferma una conferma decisa quindi abbastanza forte significa che evidentemente la gente apprezzo quello che stiamo facendo la cosa più importante è rimanere nella nostra piccola realtà uniti e soprattutto collaborare con i paesi vicini Auretta Salviterle Caggiano Pogno Petire insomma creare una rete a partire dalla quella che è la strategia delle aree interne col Vallo di Diano quindi con la strategia dell'ex ministro Barch eccetera cominciare a tessere le fila di un territorio che insomma possa ecco riconoscersi in un progetto di sviluppo condiviso condiviso dal territorio che sia un territorio più ampio appunto il Tanaghi dal Vallo di Diano questo è quello che cercheremo di fare un dato importante lo spoglio ancora sta terminando per cui ci sono ancora delle schede ma da quello che verrà fuori molto probabilmente il nostro consigliere comunale rumeno quindi comunitario penso che questo possa rappresentare un evento lui avrà la delega le politiche comunitarie già con lui facevamo la festa dei popoli Dio Cesano eccetera considereremo questo progetto anche l'integrazione delle popolazioni comunitarie e nonne questo è un segnale importante che la comunità abbia dato riconoscimento a questa persona questo ovviamente la riconferma di molti miei ex consiglieri assessori vice signori insomma tutti quanti poi purtroppo questa cosa elettorale è stata un po' così perché qualcuno resta fuori pur vincente dovremmo assolutamente pensare anche a loro perché con tutti quanti con città adesso c'è Franco Luride il nostro candidato del territorio che ha avuto una bella affermazione adesso seguirà un breve stacco pubblicitario a tra poco con la seconda parte delle nostre notizie ben ritrovati ci spostiamo adesso ad Auletta dove tiene banco la questione Tarsu con un doppio volantino la minoranza attacca il sindaco per l'incremento delle bollette del 26% eppure con la gestione integrata del ciclo dei rifiuti e l'addio all'ergo si preventivava un grande risparmio un doppio volantino ha acceso il dibattito in questi giorni ad Auletta il gruppo Cambia Auletta ha infatti lanciato un duro affondo nei confronti dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Pietro Pessolano oggetto del contendere la Tarsu i cui bollettini giunti nelle ultime settimane evidenzia che per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani c'è un aumento del 26% eppure il sindaco si legge nella missiva prometteva la riduzione delle imposte locali tra cui la Tarsu la precedente amministrazione prosegue la nota ottenne che il servizio di porta a porta e il conseguenziale trasporto e smaltimento dei rifiuti fosse fatto con dipendenti del comune di Auletta in associazione con i comuni di Salvitella e Caggiano questo prevedeva un risparmio nella missiva si snocciolano numeri e si riporta che la prima cosa a cui fu messo era la convenzione con la Ergon la quale prevedeva un costo di 178 mila euro con la gestione integrata il comune avrebbe speso 95 mila euro circa con un notevole risparmio a cui andrebbero poi aggiunti i ristori derivanti dalla vendita di cartone vetro latta e carta che avrebbero dovuto quindi abbattere ulteriormente il costo del servizio cosa che però non è avvenuta visto gli aumenti ravvisati nell'ultima bolletta in un secondo volantino sempre a firma del gruppo cambiauletta si replica le risposte offerte dal primo cittadino che amputava prima la provincia l'aumento delle imposte poi faceva riferimento a componenti del nucleo familiare e infine faceva riferimento al dipendente collocato nella voce Tarsu o meglio Tari 2014 la verità così scomoda tuona la nota è tutt'altra infatti con la delibera numero 28 del 30 settembre l'amministrazione comunale ha deliberato un aumento generalizzato delle tariffe la tariffa per l'abitazione è passata da 1 euro e 50 metro quadro a 2 euro e 10 la tariffa per gli studi professionali banche e assicurazioni da 6 euro a 8 euro e 40 metro quadro la tariffa per i depositi da 1 euro a 1 euro e 40 metro quadro inoltre il gruppo cambiauletta lamenta una carenza di informazioni fondamentali degli avvisi Tari per poterli definire legittimi la prima lacuna si legge è l'assenza di qualsiasi riferimento alla delibera di adozione delle tariffe Tari la seconda è il mancato riporto sugli avvisi della tariffa applicata a metro quadro pertanto il gruppo cambiauletta invita i cittadini a richiedere il ritiro degli avvisi così come consegnati e pretendere che siano rielaborati nel rispetto della normativa sulla trasparenza quindi le imposte sono aumentate con un grave peso sulle famiglie che sono così costrette a pagare di più nonostante il consigliere delegato all'ambiente Antonio Adesso nel novembre 2013 in un articolo pubblicato sulla città di Salerno dopo essersi vantato dell'aumento della percentuale di raccolta differenziata passata dal 56% al 73% dichiarava che il passaggio dalla Ergon alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti avrebbe garantito un notevole risparmio il risparmio dei cittadini si legge nell'articolo non l'abbiamo ancora quantificato ma sarà intorno alla 30-40% in termini estremamente economici in un'intervista rilasciata nel luglio precedente era ancora più chiaro avremo un risparmio del minimo 40-50% almeno pensiamo sulla gestione non voglio dire sui rifiuti proprio in sé per sé una volta portati in discarico lo smaltimento i prodotti nobili con il ristoro ma proprio sulla gestione si può arrivare senza esagerare 10-12 mila euro al mese di risparmio ora tutto questo risparmio sulla bolletta dov'è? quello che si nota invece è soltanto un aumento in gente che sicuramente in un periodo di forte crisi economica come questo non certo può aiutare le famiglie del paese venerdì 5 giugno a partire dalle 9 quarta giornata di San Pietro spegne i pregiudizi che sarà dedicata all'ambiente e si svolgerà all'interno del parco dei mulini nell'ambito delle iniziative promosse nella campagna di sensibilizzazione dal titolo San Pietro spegne i pregiudizi è in programma per venerdì 5 giugno il quarto appuntamento che celebrerà la giornata mondiale dell'ambiente un ulteriore argomento un ulteriore tema di forte valore sociale e culturale proposto dai consiglieri Piero Romando e Angelo Di Benedetto promotori dell'iniziativa che lo ricordiamo prevede 10 appuntamenti in altre tante giornate in cui sono affrontati diversi temi ancora una volta si cercherà di dare ai più piccoli un messaggio e lo si farà sempre attraverso il gioco presso il parco dei mulini ogni classe delle scuole elementari e medie di San Pietro Altanagro e ognuna di loro pianterà la propria aiuola e il proprio albero inoltre ogni aiuola avrà una piccola targa con indicato la classe e i nomi dei bambini saranno loro i proprietari di questa aiuola nel corso della giornata inoltre sono previsti anche una serie di giochi con materiali che di solito utilizzano i più piccoli come ad esempio le bottiglie di plastica di latte e vasetti di yogurt e molto altro come detto questa iniziativa ricade nella giornata mondiale dell'ambiente tale giornata è stata istituita dall'Assemblea Generale dell'ONU nel 1972 e viene celebrata ogni anno il comune di San Pietro Altanagro inoltre ha aderito al progetto internazionale di sensibilizzazione consumare con cautela dedicato all'uso efficiente delle risorse e ai modelli sostenibili di consumo e produzione nel contesto della capacità rigenerativa del pianeta l'appuntamento con la quarta giornata di San Pietro spegne i pregiudizi e dunque per venerdì 5 giugno a partire dalle ore 9 tutto è in campo lo scorso fine settimana playoff che sorridono alla Pollese ma non allo Sporting sala Consilina si salvano invece Socia Real Palomonte Gregoriana e Alfanese weekend di spareggi playoff e play out in prima e seconda categoria in prima categoria girone G l'Audax Salerno vince i tempi supplementari contro l'atletico per niente accede così alla finale del girone dove sarà ospite il prossimo fine settimana del centro storico Salerno che ha fatto da osservatore in questo fine settimana invece nel girone H la Pollese di mister Augusto Gentile a vita dura contro il Marina i gialloverdi rischiano di subire più volte lo svantaggio di inizio partita poi sfiorano invece il gol che avrebbe sbloccato il risultato prima con Soccodato e poi con Giorgio ma il palo e la traversa dicono di no sul finale di frazione succede di tutto il vantaggio del Marina sul calcio di rigore realizzato da Esposito poi nemmeno tre minuti che dagli sviluppi del calcio di punizione arriva l'autogol di De Curtis che porta all'intervallo in parità le due squadre nel secondo tempo la gara subito si mette bene per la Pollese con l'espulsione di vita per gli ospiti ma il gol vittoria tarda ad arrivare e arriva soltanto nel finale e ancora una volta è Salvitelli Giuseppe a battere un calcio di punizione insidioso che mette in difficoltà difensore e portiere con la sfera che termina la sua corsa in porta successo importante è adesso tra sette giorni la finale in casa del Vigor Castellabate nel girone H e nel girone G si sono giocate altre gare importanti valide per i play out il socio calcio batte il Rufoli di misura e conserva la categoria basta invece un pari al Real Polomonte contro il Real Taverna per salvarsi nel girone H doppio 2 a 0 per Gregoriana e Alfanese che regolano così Real Contursi Terme e Controne che adesso si giocheranno la salvezza nel campionato di seconda categoria girone N la semifinale play off tra Rofrano e Sporting Sala Consilina ha visto il dominio della compagine di casa che ha battuto la formazione salese per 4 a 1 adesso la prossima settimana match delicato e importante per il Rofrano in casa del San Vito Sapri che dopo aver visto smarrire il sogno di una promozione diretta la cerca tramite la post-season grande spettacolo per la 33esima edizione della Corsa Longa 9 km di corsa che hanno emozionato il pubblico presente e hanno consegnato la vittoria e il nuovo record del circuito al marocchino Josef Zituni della potistica Il Laghetto che ha abbassato di 8 il precedente record si è disputata lo scorso fine settimana la 33esima edizione della Corsa Longa la Corsa Podistica di San Giovanni a Piro che quest'anno era valida per la quarta tappa del circuito Cilento in Corsa un'edizione che ha fatto registrare ben quattro premiati da parte dell'organizzazione l'associazione Media Piros che ha dovuto aggiornare il libro dei record infatti il vincitore della gara nella categoria maschile il marocchino Josef Zituni della podistica Il Laghetto ha abbassato di 8 secondi il precedente record del tracciato firmato da Zaid nel 2011 e fermando il cronometro a 29 minuti e 11 secondi ma al termine della Corsa di sabato gli organizzatori hanno dovuto premiare inoltre anche il nuovo record italiano di Giglio Iannone che ha giunto al terzo posto al traguardo ha migliorato se stesso chiudendo i 9 chilometri in 30 minuti e 35 secondi primato femminile per la sorella d'arte Merien Lamachi vincitrice della categoria e quattordicesima assoluta con il tempo di 34 e 13 miglior San Giovannese e trionfatore del trofeo Nicola Paradiso Giuseppe Sorrentino dell'US Scalo Voghera che ferma il cronometro sui 33 netti superando il primato di Paolo del Duca che resisteva dal 2010 gli atleti sono stati accompagnati lungo tutto il percorso da tanta gente che li ha incitati e spinti al traguardo la corsa si è decisa sulla salita finale dove Zitoni stacca il compagno di fuga e riesce a raggiungere solo il traguardo il traguardo di Vietredoro Gaza celebra così il nuovo primato assoluto della corsa longa ad opera dell'atleta marocchino che si aggiudica anche il bonus oltre al premio per il primo classificato la macchia arriva con un ritardo di 41 secondi jannone terzo a un minuto e 24 ora per quanto riguarda il trofeo del circuito cilento in corsa dopo quattro tappe resta in testa la classifica generale Giorgio Mario Nigro del running club Camerota settimo alla corsa longa con 736 punti davanti a Donato Marotta con 727 punti e Marco Landi a quota 720 tra le donne Anna Senatore comanda la classifica con 391 punti in seguito da Daniela Capo e Faustina Bianco questa era la nostra ultima notizia grazie per averci seguito auguro a tutti una buona serata grazie a tutti